salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video un mcp quest'oggi abbiamo già tirato il dado è questo qui e come probabilmente avrete già intuito vabbè non l'avete già visto non so se si è visto bene comunque sono dei vestiti su minecraft esistono i vestiti per caso ovviamente sì e noi in questo caso non ce li abbiamo ora però fermi tutti perché abbiamo già fatto un paio di episodi nella vanilla negli ultimi uno degli ultimi episodi proprio anzi due dove andavo in miniera a cercare materiali e farci la natura in ferro questa è un'altra serie questo lo so però non mi piace neanche fare troppi video troppo uguali anche se qualcosa di simile dovrà venire fuori ora il nostro obiettivo potrebbe essere di fare l'armatura ma invece che fermarsi al ferro possibilmente perché adesso vediamo com'è la zona qua nella vanilla abbiamo avuto relativamente abbastanza fortuna direi ora vediamo in questa zona visto che abbiamo anche poco cibo direi di farci la natura in diamante così siamo già a posto per più o meno tutta la serie perché durerà poco a livello di numero di episodi perché come tempo si sta già espandendo oltre il limite previsto quindi direi di prendere quel ferro che abbiamo e no purtroppo non ci sta aspetta 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 questi si possono rendere yes ottimo così abbiamo anche il secchio beh tra l'altro continuo a sentire dei zombie e non capisco da dove vengano la cosa non è che mi faccia proprio molto molto piacere non ci posso credere cioè ho davvero costruito una la cagata l'abbiamo fatta vabbè vabbè appena possiamo ci creeremo anche alle torce mancano torci potrebbe essere un problema facciamoci questi intanto torce e cibo cibo altro problema non da poco però intanto prendiamoci le bacche abbiamo anche un osso potremmo fare la ferina d'osso un attimo però mi sa un po prego usarla vabbè però intanto direi di vedere dove dove fare la nostra miniera poi all'inizio eravamo in un altro posto però non mi ricordo assolutamente niente ma io ti direi prove provo poi vorrei anche a sì ottimo allora facciamo così così facciamo le cose fatte bene da qua iniziamo a scavare ci servono altre scale ok non ce l'avevo 12 facciamone altre vabbè meglio di niente prendiamo da qua quindi direi di così e andiamo giù uno sì magari usiamo quello in pietra eccoli anfami e però vedi subito così non ci va male in realtà eh ora eviterei volentieri di esplodere con quel creeper che ho appena visto ma mi hanno non distrutto perché è esploso il creeper perché è esploso il creeper mi è ben chiaro il da farsi wait calma un attimo eh no così non non si fa mi dai un attimo le mie cose ecco adesso puoi vediamo la farm di mob anche qua adesso vedi funziona meglio che quella la vanilla tra l'altro che ho cercato di sistemare un po' adesso vediamo poi i prossimi episodi come va off camera insomma ho illuminato un po' di più in zone intorno che dove probabilmente spawnavano mostri al posto che spawnare da sopra e cose del genere e ho verificato che non ci fosse luce ma effettivamente non c'era luce per via delle slab per quello l'ho verificato ma andava bene oh se avete consigli anche voi che sia su questa o sull'altra serie comunque sono bene apprezzati va bene direi mangiare un po' anche carne marcia no ecco i ragni magari evitiamo no ma dai ma un attimo di pace ma quanti blocchi sono sceso neanche 10 1 2 3 4 5 6 8 9 a una decina di blocchi si so basta uno scheletro con la spada uno scheletro allora questa serie doveva essere una serie tranquilla con le shader la musica chill uno scheletro super aggressivo con la mia spada in pietra poi soprattutto quanti ce ne sono di scheletri perché mi sono leggermente ma leggermente dico rotto cosiddetti dammi l'arco almeno eh no eh no non è possibile dai 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 volevo almeno chiuderlo se mi recupero la roba ma allora allora io sono felice da una parte perché c'è un po' di content però però un po' di calma ogni tanto ci vuole allora sistemiamoci l'inventario per l'ennesima volta aggiungerei ok non avevo un altro piccone eccolo anche le torce ecco cosa mi mancava piazziamo le torce che non deve spawnare più niente qua ma neanche di là però almeno non di qua poi adesso prendo i materiali che ci sono qua e ci vediamo appena finito molto easy ho là il nostro ferro così ci facciamo anche il secchio d'acqua anzi visto la poca calma che c'è fuori ce ne bastano due fatto ora dormo visto che subito qua sotto c'è l'inferno e forse però fare da questa parte era più comodo e vabbè visto come siamo scesi non è neanche così scomodo e dai dov'è l'acqua fuori qua ci deve stare l'acqua mi vuol dire che devo andare fino in fondo a prenderla così rischio di rimanerti un'altra volta andiamo fino in fondo a prenderla ecco ecco i ragni i ragni anche fuori io non ho parole però per ora mi sa che prendo solo questo e me ne frego un po' sinceramente no 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 dell'acqua infinita voilà questo ce lo teniamo ben stretto che ci salva la vita e facciamo anche una cosa molto fast vabbè in questo caso potevo sfruttarne uno in più almeno però vabbè così la prossima volta cresceranno più in fretta tutti vediamo ottimo c'è no direi che possiamo tornare giù ci siamo andiamo a scoprire se c'è un qualcosa uno spawner che ne so perché ma teniamo comunque anzi anzi diciamo così proprio dividiamo la zona sicura ecco appunto dicia dicia eh 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 voi non capite l'odio che mi sta salendo è un lavoro brutto eh ma perché muoio subito mi da fastidio cioè non ho né armatura e niente questo è sì 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 bravo ti ne ho occupato no ma quanti figli hai eeeh e la madonna no ma c'è qualcosa che non quadra qua cioè ok che il gioco è settato ad hard mi sono ricordato adesso cioè nel senso ci ho guardato in realtà anche prima quando ho messo le shader me ne sono accorto però conto è hard ma questo è impossibile già capiamoci intendiamoci un attimo e noi abbiamo solo due cioè quindi mi vuoi dire che non abbiamo neanche abbastanza pelle niente proprio zero armatura e noi vogliamo farci subito quella in diamante no perché considerato il fatto che non riusciamo ad arrivare a mezzo metro più avanti che bella idea di allora tra l'altro mi faccio giù un albero intero cioè un albero in più non volevo dire intero ma sì anche dai ma la spada in ferro ragazzi ma altro che forse dovrei mettere hard alla vanilla principale per far la farm cioè non ho capito fu così che l'esploratore si incontrò davanti alla ricerca dei suoi vestiti il demonio posso anche la carota no basta per favore esisteranno i ragni non aggressivi modalità hardcore non è hardcore per fortuna l'arco incantato eh adesso forse non ero full vita ma a meno che non sono stupido io secondo me un po' di vita ce l'avevo si toglie tre cuori e basta con due o tre colpi ti one shot che non ti one shot perché non è un colpo solo ma ci siamo intesi è abbastanza da essere una rottura altamente ampia di quei cosiddetti che preferisco non nominare in questo momento e non mi dai neanche l'arco incantato vergognati vergognati devi proprio vergognarti ma a livelli proprio cioè ma guarda i creeper sono quelli che preferisco in questo momento però non per i fatti loro basta fine se gli schivi gli hai schivati se non gli schivi non gli hai schivati molto niente da capire cioè noi siamo a livello 98 muschio è tutto questo casino per cosa tre pezzettini di ferro un po' di più meglio facciamo la chestplate magari qui va io qua richiudo ma così eh ora noi continuiamo a scavare da qua qui ci metto la fornace con il ferro noi abbiamo uno due tre quattro cinque sei ma il mio legno esattamente che fine ha fatto oh meno male meno male che era ancora lì perché se no tornare di sopra prendere del legno non c'evo mica voglia ottimo diciamo che la roba dei vestiti in teoria l'abbiamo già completata però noi ci vogliamo aumentare un po' la sfida almeno almeno trovare diamanti dai uno due tre quattro stiamo facendo una cosa più sbagliata papapapapettate a parte che mi è sembrato esistere qualcosa di lava vedremo per un attimo però non lo so cosa ci fa dell'argilla vabbè facciamo un po' di argilla magari se ci riprendiamo la crafting così nove basta probabilmente facciamo prima dopo scendere da fuori però proviamo ancora un po' vabbè in pratica tutto questo casino per cosa non lo sappiamo sì esattamente non so se ridere o piangere mi ricordo come si fa a trasferire tutte le robe uguali vabbè fermi 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 senza cibo mi ricordavo quel abbiamo trovato la nostra caverna facciamo che torno indietro a prendere dell'acqua prima però così teniamo questa mettiamo anche le torce ma fa paura guarda lì godo e come sto godendo l'acqua dove arriva però non so cosa avete percepito voi forse probabilmente niente io ho appena assistito all'ops che si è staccato per un attimo che ho temuto a parte non me lo aspettavo però insomma se scatta la luce adesso non è proprio un buon ok che io ho il tempo di spegnere ma non vorrei spegnere sto scendendo lentamente tra l'altro perché ho paura a continuare anche qua sono andati via aspettate coordinate ci vogliono si frutti 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 no 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 cibo 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 che fa anche luce e ne prendiamo un po' non è vero servono le cesoie è vero o no? no servono i frutti direttamente allora ne teniamo uno lì da parte però non so se crescono effettivamente a casa coi frutti in teoria si guarda che ha scherzo la torcia come godo è arrivato il momento di addentrarci nell'infer ok solo se solo se però guardate che figata cioè adesso a parte gli scherzi è una figata ho paura ad andarli su ma si va da qualche parte non ho l'assoluta certezza in realtà la torcia è una figata Grazie a tutti